Cosa si devono aspettare questa sera? Ho parlato prima di una sorpresa. Allora c'è un signore che cerca parcheggio con la macchina, allora cerca cerca il parcheggio e non lo trova, si incazza un pochettino così. A un certo punto vede un pochettino, un piccolo posto, si infila la macchina, scende, sta chiuda, arriva la vigilezza dietro, signore sono 33 euro, io guardo un pochettino e poi gli dico vabbè andiamo. Vida, da sempre mi accompagni, fino a qui sono passati gli anni. Ci sto bene sai, ho la mia misura, ma l'altro ieri dai, credevo fossi stata più sicura. Vida, io non ti ho perdonato quando mi lasciavi senza fiato, quando mi tenevi stretto tra le dita, sempre qui, qui tra una discesa e una salita, ma qui potevi dare un po' di merce in più, un po' di sesso in più, un po' di tutto in più, se avessi amato in più, se avessi odiato in più, se avessi amato in più, se avessi amato in più, vita, 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 vita. Ti senti una signora, voli via, quando arriva l'ora, non mi lasci niente, solo la paura, che di là, possa ritrovarti un po' di merce in più, un po' di sesso in più, un po' di tutto in più, se avessi amato 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 in più. Vita, 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 di poter evitare Un po' di più Un po' di più Un po' di più Un po' di più Vita 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 Vida Vida